benvenuti a tutti da one piece i massimi esperti come volete sentire monkey di che vi parla oggi andremo ad approfondire due personaggi fondamentali di wano kuni e anche della macro trama di one piece parlo di chi di lady toki e di oden kozuki continuo io katakuri su ar per parlarvi di un parallelismo storico tra oden kozuki e musashi miyamoto allora musashi miyamoto è considerato il più grande samurai di tutti i tempi e infatti anche il più famoso della storia del giappone egli ha combattuto oltre 60 duelli senza perdere mai ha partecipato a una serie di battaglie tra cui quella più importante se chi gara ha creato un proprio stile di spada la nitten iciru nome che ci ricorda anche la scuola di combattimento in un altro manga che scine samurai vagabondo in cui insegna la tecnica due spade una spada lunga la katana e una spada corta la wakizashi allora noi sappiamo che musashi vinse il suo primo duello mortale all'età di 13 anni contro a rima che era un samurai errante all'età di 15 anni lascia il suo villaggio natio era un abile utilizzatore anche del boken il bastone con cui sconfisse con un grande stratagemma il suo più grande avversario sasaki kojiro musashi era famosa non solo per le sue grandi capacità tecniche ma anche per essere un grande stratega è un grande scrittore la sua opera più famosa è il libro di cinque anelli la leggenda vuole che al suo funerale un fortissimo tuono scosse tutti i presenti alla cerimonia e il commento dei più la fu è lo spirito di musashi che lascia il corpo beh quindi abbiamo trovato varie similitudini di quando erano giovani entrambi i personaggi fenomenali musashi e oden non avevano mai perso un duello infatti proprio rapportandoci a ciò diciamo che oden secondo noi non ha perso contro hakaido ma si è consegnato poi un altro parallelismo la tecnica due spade che accomune entrambi l'oden style ricorderete e anche il carattere spavaldo era un punto in comune tra di loro musashi è un abito e scrittore oden incideva pognegriff e possedeva anche un diario di viaggio quindi l'ispirazione ci sembra veramente palese ovviamente la figura di musashi e poi di oden secondo noi adesso è trasmigrata anche in roma a zoro dove abbiamo visto appunto molte similitudini e ovviamente questa figura di musashi miyamoto e poi di oden secondo noi sono trasmigrata in zoro per non parlare poi anche delle spalle come la enma la spalla che può tagliare fino agli inferi e la meno a bakiri la spalla che può tagliare i cieli poiché quest'ultima è la spada che nella leggenda susano uccide lo yamata no orochi e tagliando anche l'ultima testa e l'ultima coda trova la famosissima kusanagi la spada del paradiso che nella leggenda stessa è capace di tagliare anche il fuoco e dopo aver parlato di oden konsuki parliamo della figura invece che si avvicina a quella di lady toki secondo noi sempre attraverso un approfondimento giapponese parlo della figura del uzzurubune questa è sempre una leggenda giapponese intorno ai 1800 si narra che questa donna arrivò sulle coste del giappone su una specie di nave un oggetto misterioso arrivato sulle coste il 22 febbraio 1803 naturalmente la data prendetela con le pinze perché comunque è una cosa molto vecchia diciamo leggenda si narra in tre testi to en shoshetsu yoryu kishu e ume no shiri di queste gesta di questa donna che arrivò e la trovarono dei pescatori dei naufraghi giapponesi nel libro nel primo libro sono descritte queste storie di questi pescatori questi naufraghi che si trovavano lì su quelle spiagge del sol levante che andavano a pesca normalmente un giorno arrivò questa straniera a bordo di questa tra virgolette nave misteriosa bellissima sconvolgente questa donna bellissima che iniziarono a interrogare ma troppo non riuscivano a comunicare bene arrivò al porto di itachi in provincia lei è una donna alta snella porta anche le misure le dico tanto per dirle circa un metro e sessanta aveva dei capelli molto lunghi delle sovracciglia molto sottili di colore rosso una donna molto aggraziata ma anche allo stesso tempo con una conciatura un po bizzarra per quelli che erano nei tempi del giappone naturalmente tutti quanti notarono che aveva una cassetta con lei forma quadrata e dove lei cercava di non farla toccare a nessuno l'unica cosa era quella perché per il resto era molto cordiale molto gentile molto affabile ed era molto bella aveva dei vestiti preziosi anche dei gioielli addosso ed anche la sua pelle la sua carnagione molto delicata molto chiara che faceva capire che non provenisse dal giappone come dicevo però la donna cominciò a parlare ma quasi praticamente nessuno riusciva a capirla quindi visto che nessuno ci riuscì non si riuscirano a capire le sue la sua provenienza le sue origini arrivò un uomo questa donna si sapeva che aveva una voce un po metallica un po stridula un po strana proprio si capiva che fosse una straniera ma arrivò un uomo l'unico che riuscì ad avvicinarsi ad ella nonostante avesse questa diciamo questo scatolo questo contenitore di un qualcosa che poi non si è saputo che nessuno voleva far torcare questo uomo riuscì a capirla a parlarci a stare con lei un po di tempo andarono via insieme finché poi un giorno questa donna sparì noi abbiamo ricollegato a tokia d'oden la donna naturalmente proprio lei e capitò in questo periodo diciamo da giano sempre nel futuro perché noi sappiamo che lei può viaggiare sempre nel futuro ma indietro nel tempo non si può tornare l'affermazione stessa di toki incontrò oden capitò in questo periodo del wano kuni si innamorò di quest'uomo che poi diventerà il futuro marito e naturalmente grazie a lei probabilmente oden viene a conoscenza anche di cose precedenti addirittura del periodo buio dei cento anni di buio è molto probabile che attraverso questa donna noi sapremo un pezzo di verità grazie sui flashback che speriamo di vedere molto presto noi sappiamo che lei proviene da un periodo indefinito magari proviene proprio dall'antico regno perché no e questo potrebbe essere una cosa importantissima per la macro trama di one piece come dicevamo poc'anzi questa donna con questo grandissimo allone di mistero disse che il suo viaggio era finito lì con il suo marito in poche vignette ci ha mostrato un allone di mistero enorme e sembra che oltre a viaggiare nel tempo nel futuro naturalmente lei riesca a mandare altre persone l'abbiamo visto come monosuke e una parte dei foderi rossi questo però noi andando nel campo delle illazioni pensiamo possa essere una profezia cioè lei possa avere anche visto una parte del futuro per questo i 20 anni precisi ipotizziamo ad esempio un risveglio del frutto tochi tochi anche se non sappiamo ancora come funziona e quindi lei possa aver visto una porzione di verità una porzione del futuro che gli abbia permesso di mandare precisamente 20 anni nel futuro un piccolo specchio di illazione questo se veramente tochi venisse dai cento anni di buio 800 anni fa e noi sappiamo il collegamento con la famiglia kozuki no che la famiglia di coloro che scoppivano i pugni e griff da generazioni proprio risalenti magari fino al periodo dell'antico regno visto che lei sempre nell'illazione potrebbe essere proveniente proprio dall'antico regno questo farebbe sì che gli ori ma soprattutto monosuke fosse un misto fra la famiglia kozuki e un membro dell'antico regno che comunque ha viaggiato nel tempo quindi in origine è come se monosuke venisse da un periodo indefinito e questo spiegherebbe una cosa importantissima che è l'ultima megalazione noi sappiamo che oden così come roger poteva sentire zunisha invece monosuke a differenza di anche rufi che lo sentiva lo può addirittura comandare quasi come se fosse una mamma ancestrale questo potrebbe essere spiegato dal fatto che lui per metà un kozuki è per metà proveniente dall'antico regno e adesso passiamo ai saluti naturalmente vi voglio dire che se volete leggere per iscritto queste cose che vi stiamo dicendo qui nel video le trovate nella pagina facebook one piece i massimi esperti italia naturalmente passate anche da one piece i massimi esperti e tanto altro sempre su facebook dove trattiamo tutti gli altri temi tutti gli altri manga tutti gli altri anime tutti i film di animazione più chi più ne ha più ne metta passate anche per instagram e iscrivetevi anche all'account youtube se non siete ancora nostri follower grazie a tutti un saluto da one piece i massimi aspetti al prossimo video teoria approfondimento o live ciao 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 ciao